Benvenuti al video dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Sono felice di darvi il benvenuto a questa nuova giornata ricca di stelle e influenze astrali. Oggi, insieme a Paolo Fox, esploreremo le previsioni astrologiche personalizzate per ciascun segno zodiacale. Preparatevi a immergervi nel magico mondo dell'astrologia e ad esplorare le meraviglie che attendono ciascuno di voi. Senza ulteriori indugi, diamo il via a questa straordinaria avventura astrologica. L'oroscopo del segno ariete. Le relazioni che mantieni intorno a te ti daranno un senso di benessere interiore. Trovi l'amicizia incoraggiante. È necessario praticare più sport affinché la macchina funzioni. Sentirai il desiderio di rendere ufficiale la tua relazione. È ancora troppo presto e dovresti prima gettare le basi per sancire le cose. Sii ottimista e la tua pazienza pagherà. Oggi la fortuna ti accompagnerà in tutto ciò che riguarda scambi, messaggi e procedure commerciali. La fortuna ora è dalla tua parte e l'amore dirà presente se non hai un partner ti sei impegnato nel tuo lavoro e questo sforzo non passerà inosservato ai tuoi superiori. Molto presto vedrai i frutti del tuo eccellente lavoro. Qualcuno molto vicino a te ti regala una breve vacanza che ti godrà intensamente. O, ariete. La tua personalità è una forza della natura e la tua leadership ti rende un vero capobranco. Nel campo dell'amore sei davvero avventuroso ma potrebbe servirti un po' di equilibrio interiore. In carriera stai dando il massimo, ma le tue finanze possono essere piuttosto instabili. Non sottovalutare l'importanza delle abilità sociali potrebbero portarti molto di più di quanto pensi. L'oroscopo del segno toro. Le persone intorno a te diventeranno più occupate, ma la tua calma ti permetterà di assaporare le gioie della vita. Hai il vantaggio di conoscere i tuoi limiti, ma fai uno sforzo per mantenere la tua sanità mentale. L'atmosfera è tranquilla e chi ti circonda si sente rassicurato nel vederti così soddisfatto e fiducioso nel futuro. Fai pace e lascia che si prendano cura di te. La tua creatività ti farà uscire da una brutta situazione. Qualunque cosa tu faccia, non arrenderti quando apparentemente incontri ostacoli. Sei in un periodo socialmente attivo e molta comunicazione a livello di sentimenti. Le conversazioni con amici e familiari saranno molto piacevoli per te. Esamini i tuoi obiettivi e sei disposto a cambiare e migliorare i tuoi atteggiamenti. Giovani o bambini ti daranno un nuovo modo di vedere la vita. Amico toro, le stelle ti sorridono. La tua personalità brillante e la leadership innata saranno i tuoi punti forti. Nonostante un piccolo calo nella fortuna, l'amore e la carriera vanno a gonfie vele. L'equilibrio interiore potrebbe vacillare ma confida nelle tue abilità sociali per rimanere stabile. Seppur le finanze non siano al top, ricorda che il tuo valore non si misura in denaro ma nella saggezza e nell'intuizione che possiedi. L'oroscopo del segno gemelli. Oggi sarai più impulsivo del solito. Evita sport estremi e discussioni tempestose. Ultimamente, sei più a tuo agio con te stesso e le tue esigenze saranno ascoltate meglio. Hai bisogno di bere più liquidi e mangiare una dieta più leggera. Nonostante la tua impazienza saprai come portare la sensibilità del tuo partner nuovi incontri si profilano all'orizzonte e l'amore è nell'aria. Al lavoro, sarai un vero rullo compressore. Affronta i problemi reali senza ulteriori indugi. L'artistico in te viene fuori. Ottima giornata per abbellire, decorare il tuo ambiente o il tuo posto di lavoro. Le pubbliche relazioni favoriscono la tua attività o la tua comunicazione con persone importanti e di rango superiore al tuo. Una storia d'amore può iniziare con una persona legata alla tua professione. Ehi gemelli! Porta avanti la tua carriera con grande energia e saggezza, le cose sono destinate a girare per il meglio. Presta maggiore attenzione alla salute, potrebbe essere un po' ultraballante in questo periodo. L'amore? Beh, non è forte come vorresti ma la tua compatibilità con gli altri è al top. Tenete d'occhio le vostre finanze. L'oroscopo del segno cancro. Sarai disposto a lavorare insieme? per il benessere di tutti. Sapete quanto sia importante unire i cuori per compiere un bellissimo lavoro d'amore. La tua salute migliora notevolmente, ma dovrai stare lontano dai dolci e soprattutto dalla farina. Tieni presente che tutto ciò che è in eccesso ha le sue complicazioni. Avrai una salda presa sulla realtà, ora è il momento di cercare nella tua testa per trovare qualcosa che non hai fatto. Ti troverai con un milione e una di cose da fare, ma prenditi il tuo tempo e procedi logicamente. Sarai troppo esigente. Soprattutto con te stesso. Rilassati e accetta i tuoi errori senza incolpare te stesso. Quindi eviterai conflitti senza senso con il tuo partner. La tua ipersensibilità potrebbe creare scintille. Hai bisogno di un po' di pace e tranquillità ed evita discussioni infruttuose. Anima creativa e intuitiva, sei un vero cancro. Con una personalità forte ed emotiva che risalta, fai attenzione alla tua salute in bilico. Il tuo lato spirituale è molto elevato, sfrutta questa sensibilità. In amore e carriera stai vivendo momenti di alta tensione, ma la fortuna sembra essere dalla tua parte. Le tue abilità sociali non brillano come al solito, quindi potrebbe essere utile lavorare su quest'area della tua vita. L'oroscopo del segno leone. Oggi sarai completamente disposto a lavorare con gli altri, perché ti piace sentirti utile. Devi rilassarti e ascoltare di più i loro bisogni di base, non essere così orgoglioso. Troverai più difficile controllare la tua sensibilità e il tuo partner sarà sorpreso di come reagisci alle cose. Per il meglio siete già stati avvertiti, evitate di rimanere bloccati nel passato e tutto andrà bene. Avrai bisogno dell'onestà di chi è vicino. Le tue emozioni ti guideranno nella giusta direzione. Non lasciare che il passato influenzi ciò che puoi fare nel presente. Sono tempi diversi e sono circostanze diverse. È tempo di incontrare la tua famiglia e concordare i bisogni che ognuno ha. Sarai in grado di esprimere le tue preoccupazioni e i tuoi pensieri senza paura del rifiuto. Leone. La tua energia è alle stelle, ma attento alla salute. L'amore brilla potente come il sole estivo mentre la carriera sembra avere qualche nuvola. Le tue abilità sociali sono in piena espansione ma occhio all'equilibrio interiore che vacilla. Fortuna. Direi che non ti manca. E sulla creatività, wow. Ma le finanze necessitano di un po' più d'attenzione. L'oroscopo del segno vergine. Sarai in grado di esprimere più facilmente i tuoi sentimenti e il tuo amore. Capisci meglio la posizione e i sentimenti di coloro con cui condividi la tua vita. Recuperi l'armonia che avevi perso con qualcuno molto vicino a te. In relazione al tuo lavoro, la tua professione si aspetta un riconoscimento sia personale che finanziario. Hai più fiducia in te stesso e un crescente bisogno di trasformare i tuoi sogni in realtà. Il tuo fascino aumenta di giorno in giorno e sta diventando sempre più evidente tra coloro che ti circondano. Dovrai essere selettivo nell'affrontare questo. Il tuo partner sta facendo concessioni a tuo favore. Se sei single, tutto va troppo in fretta. Dovrai rallentare le cose. Fallo senza sentirti in colpa, prima di finire. Dovrai prendere una decisione radicale e forse rischiare di sembrare più duro di quello che sei. La tua avventurosità è un po' a bassa, quindi potrebbe essere il momento giusto per uscire dalla zona di comfort. Attenzione alla salute, prenditi cura di te stesso. Le finanze non sembrano troppo promettenti, ma la tua forte personalità ti permetterà di cavartela. In amore ci sono alti e bassi, ma ricorda che l'equilibrio interiore è fondamentale. L'oroscopo del segno bilancia. Provi il desiderio di conoscere qualcosa di nuovo e diverso, di visitare luoghi mai visti da te. Un evento o un'esperienza ti farà imparare qualcosa sulla tua relazione e sui sentimenti che provi per quella persona che è così speciale per te. Ogni esperienza sarà molto positiva, bilancia. È il momento migliore per fare una vacanza. Il clima è costruttivo e gratificante sul fronte delle relazioni e la fortuna è con te per forgiare nuovi legami. Perdi troppo tempo in questioni banali e questo ti esaurisce. Una conversazione sarà molto fruttuosa e ti farà vedere le cose in modo diverso. Avrai una buona guida delle tue emozioni, che ti spingerà verso una maggiore felicità. Il tuo atteggiamento è molto promettente. La tua moderazione ti permetterà di affrontare i dubbi tra coloro che ti circondano. Amico bilancia, le stelle indicano un periodo di grandissima energia e creatività. Nonostante ciò, la tua emotività potrebbe giocarti brutti scherzi. In amore vedo cose positive, ma attento alle tue finanze. L'equilibrio interiore è fondamentale per gestire al meglio i tuoi rapporti sociali che sembrano essere in una fase di grande cambiamento. La saggezza ti guiderà nelle scelte legate alla carriera. L'oroscopo del segno Scorpione. È tempo di negoziare e dare forma a qualsiasi transazione o progetto che hai in mente di realizzare. Dovrai definire ciò che è veramente prezioso per te, Scorpione. Scegli ciò che viene prima, il materiale, l'intellettuale o lo spirituale, per definire te stesso ed esprimere le tue motivazioni e i tuoi desideri agli altri. Tutto andrà molto veloce oggi, e sarai bombardato da tutti i tipi di richieste, non dire di sì a tutti. Sarai più efficiente se rallenti una marcia. A livello emotivo, sarai attratto a seguire impulsi irresistibili. Il tuo entusiasmo ti dà libero sfogo e ti spinge in una relazione appassionata. Non avere troppa fretta se ti viene chiesto di fare promesse. Avrai un irresistibile bisogno di ravvivare la tua vita quotidiana, ma non spingere troppo. Scorpione, la tua personalità è brillante come non mai, con una creatività che ti fa spiccare. Nonostante qualche intoppo in amore e carriera, la tua saggezza ed energia ti guideranno. La fortuna gioca a tuo favore ma attento alla salute. Le finanze sono stabili mentre la tua abilità di comunicazione potrebbe necessitare un po' di miglioramento. Il tuo lato avventuroso brilla e il tuo equilibrio interiore è forte. Rimani concentrato sui tuoi obiettivi. L'oroscopo del segno sagittario. Una figura materna influenzerà le tue decisioni personali. Cercherai l'approvazione di coloro che significano molto per te. Le tue emozioni saranno facilmente influenzate. La cosa più importante per te, in questo momento, è la tua casa e la tua famiglia. Fai attenzione a non chiedere e pretendere più di quello che puoi offrire loro. La tua testa è tra le nuvole e la tua mancanza di attenzione ti sta aiutando ad allontanarti dalla routine quotidiana. Le idee si accoppiano e sarai tentato di agire troppo prematuramente e senza fare il passo precedente. È necessaria un po' di moderazione. Questo è un giorno ideale per esprimere i tuoi sentimenti e aprire il tuo cuore. Ammetti ciò di cui hai bisogno e cambia la tua armatura. Sarai molto più concentrato del solito sui tuoi affari personali. La tua energia e la tua leadership saranno al massimo, facendo di te il centro dell'attenzione ovunque tu vada. Ma attento alla salute, potrebbe esserci qualche piccolo contrattempo che potrebbe minare il tuo equilibrio interiore. Buone notizie però in amore, dove sembra che Cupido abbia deciso di puntarti dritto al cuore. Un po' meno brillanti invece le finanze, cerca di fare attenzione alle spese superflue. L'oroscopo del segno capricorno. Stai imparando a conoscerti meglio. È tempo di mostrare ciò che sei in grado di ottenere. Molti rimarranno colpiti dal tuo lavoro. Tuttavia, sii consapevole di non voler dominare o imporre il tuo modo di essere agli altri. Fai attenzione a non cadere in discussioni o discussioni con persone che apprezzi molto. Un eccesso di fiducia in se stessi farà sentire le persone invidiose e potrebbe portare a fraintendimenti. Impulsi inaspettati e impulsi frenetici ti fanno sentire stanco, quindi non esagerare con l'esercizio fisico. Siete molto tentati da idee selvagge. Hai i mezzi per energizzare la tua relazione o iniziarne una nuova che sia più vicina ai tuoi sogni. Dovrai mantenere la calma per essere in grado di fare marcia indietro. Questo ti aiuterà a organizzarti per quanto riguarda un progetto che riguarda il luogo in cui vivi. Le tue finanze sembrano promettenti, quindi è il momento di fare quel grande acquisto che hai rimandato. Tuttavia, fai attenzione alla salute, non trascurarla per inseguire altre cose. Sei una forza da non sottovalutare nella leadership e questo rafforzerà le tue abilità sociali. L'oroscopo del segno acquario. Le tue relazioni intime si intensificano. Qualsiasi relazione d'amore che inizia ora lascerà tracce profonde nella tua anima e nella tua vita. Difetti e virtù vengono a galla perché si capiscano e si conoscano meglio. Beneficerai di ciò che ricevi da altre persone o degli sforzi finanziari che svolgi con il tuo partner o partner. Ti muoverai verso la realizzazione dei tuoi sogni e questo ti distrarrà. Concentrarsi sui dettagli pratici sarà fondamentale. Vorrai eliminare le tue vecchie abitudini e rivolgerti a nuovi orizzonti. Non esitare a fare questo passo, ma non lasciare che questo ti faccia cambiare tutto. Non prenderti troppo sul serio. Prendi tutto al valore nominale, ed è un peccato. Oggi c'è la possibilità di un nuovo progetto di lavoro. Ora è il momento di pensare in dettaglio al futuro. L'amore potrebbe presentare qualche sfida ma ricorda sempre di usare la saggezza che ti contraddistingue per navigare queste acque turbolente. A proposito di salute, prenditi cura di te stesso, il tuo corpo ha bisogno della stessa cura che dedichi alla tua mente brillante. L'oroscopo del segno pesci. La tua mente diventa più attiva di quanto non sia già. Tieniti impegnato con progetti utili perché potrai realizzare cose meravigliose. Non vuoi saltare da un posto all'altro, concentrati su quello che stai facendo per non perderti. Distrarti con cose piacevoli e rilassanti sarà un balsamo per te. Oggi sarete lieti di sentirvi utili e aiutare gli altri. Forse nasce un progetto di solidarietà o, semplicemente, vuoi essere più utile per la tua famiglia. Nella tua ricerca di brillare socialmente, potresti finire per fare alcuni piani che non puoi realizzare e che ti frustreranno. Rimanere concentrati sui tuoi obiettivi sarà l'unica vera via d'uscita. Nella tua vita emotiva, dovresti investire il tuo tempo solo nelle relazioni che apprezzi. Accedi alla tua creatività personale. In amore, sei un vero dono per il tuo partner, anche se a volte devi lavorare sulla comunicazione. La tua carriera è in salita ma non dimenticare la tua salute. Le tue finanze possono essere instabili, resta saggio nelle decisioni economiche. Ricorda che la saggezza viene dal bilanciare avventura con cautela e che l'equilibrio interno può alimentare la tua creatività.